Cioè la russa si sta muovendo sulla sedia, vuol chiamare lei Vladimir o la russa invece di farlo chiamare a Draghi? Io no, io no, ma insomma nel governo mi pare che ci sono persone più adatte di Draghi a chiamarlo. Ah, Salvini. No. Salvini? No. Eh, Salvini, Berlusconi. Berlusconi pure, cioè. Ah giusto, Berlusconi sono super amici. La cosa più divertente... Sì, voglio dire, ma non credo che sia quella la soluzione. Che è un animino, ho chiamato subito. Prodi. Quella è la soluzione alla Prodi. Io ho molto rispetto per Prodi, però in quella bellissima intervista che gli hai appena fatto, mancava una domanda. Come mai accettò il cambio dell'euro che è all'origine dei nostri guai economici che favoriva solo la Germania? Come mai non ebbe la capacità o la volontà o la possibilità di immaginare l'entrata nell'euro meno disastrosa per l'Italia? Eh? Ho fatto una moratoria per non tornare all'euro. No, io non voglio tornare, voglio dire che l'euro... Non so, ma mai. No, no, l'euro era una necessità, era il cambio sbagliato. Nel senso che abbiamo fatto un cambio uguale al Marco e da allora mille lire sono diventate un euro. E la responsabilità è di chi accettò quel cambio, cioè di Prodi. Per il resto l'ho trovato molto in palla e anche molto ciclista.